La Fête des Vignerons si terrà dal 18 luglio per tre settimane a Vévé, nella Svizzera francese. Un evento mastodontico che si ripete ogni 20-25 anni e che celebra l'impegno dei lavoratori in vigna. Il piccolo paese e le zone circostanti del Canton Vault sono pronte ad ospitare oltre un milione di persone. Tutto il circondario della zona diventerà una cantina unica, il racconto di un territorio vocato alla viticoltura da secoli. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Accanto al vino non manca la gastronomia, dai cuochi stellati del posto alle tipicità di questo splendido territorio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.